Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream, io sono RatoX mentre oggi siamo tornati su Slither.io Allora ragazzi l'ultimo episodio l'ho fatto un bel po' di tempo fa Sono voluto tornare perché semplicemente volevo provare la mod per Slither.io Ovvero quella che ci permette di zoomare Soltanto che alla fine tipo ho cercato di trovare la mod che ci permette di zoomare Ci sono stato letteralmente ore davanti per trovare una mod semplice Ovvero giri con questa e ti zoom ma no Ci sono soltanto tipo robe di questo tipo che praticamente all'interno hanno più robe dei negozi dei cinesi No non è vero quelli non si battono però ci siamo quasi Comunque vado ho visto che ci sono anche un sacco di skin qui Ed è una cosa veramente molto interessante Soprattutto perché wow adesso finalmente potrò decidere con quale skin vorrò giocare Non so quante ce ne siano le sto scoprendo adesso in questo momento E madonna quante sono Ma queste skin ci sono anche nel gioco normale oppure è soltanto con questa mod Perché veramente sembrano tipo poche No ma voi state scherzando non possono essere così tante Oh 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 che era? Che era quello? Che era? Eh? La pokeball? No no voglio giocare con questa Assolutamente gioco con questa Allora visto che in questo caso abbiamo deciso di prendere la skin dei pokemon Quale nome migliore di Squirtle? Va bene ragazzi adesso useremo idropompa sugli altri e saremo super efficaci Che cosa volevi fare? Scusa spiegami un attimo Ok voi venite tutti quanti qui Oh mio dio non ci... Cosa ho appena fatto? È fighissima questa mod ci permette di vedere molto di più e gioco pure meglio Per arrivare al primo posto dobbiamo avere 20.000 punti Io in questo momento sto a 2.000 Quindi cioè sono un ottimo giocatore di slitherio ragazzi non per dire niente Ragazzi sto facendo tipo dei punti a caso A casaccio tantissimo proprio Oh oh come l'ho fatto? Come l'ho fatto? Che culo? Che culo? Ok mamma mia questo gioco mi fa eccitare troppo non va bene Signore dove vuole andare scusi? Se la bloccassi tipo? Oh che culo! Oh che botta di culo assurda! Cos'è successo? Come ho fatto a ritrovarmi dentro tipo una chiusa così? Fatemi capire ragazzi Che poi mi sono accorto che quando siamo più piccoli abbiamo molta più mobilità di quelli più grandi Non per dire niente Oh cazzarola no 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 so cosa Fuuuck Oh che culo che culo che culo che culo mi allontano Non vedevo un cavolo ragazzi Mi stavo illuminando d'immenso Andiamo da qualche parte dove ci sta gente magari più grande Tipo il signor Twitch TV Che in pratica si sta spammando 390.000 Ma questo è un hacker dai non è possibile Tu devi morire Questo qua morirà Questo qua morirà Uno dei due morirà Uno dei due morirà per forza Uno dei due morirà per forza Allora vediamo chi però È morto È morto È morto È morto È morto Signore deve morire Perfetto Perfetto Cosa sta succedendo? Una strage Oh mio dio Oh mio dio Cosa sta succedendo? Non lo so mai nella vita Ma sono arrivato a 2600 Bene Sono morti quasi tutti Forza forza Oh ti voglio vedere come passi Queste mo Come fai a non morire ancora? Mamma mia che sculato che sei No guarda io a te ti prendo Io a te ti prendo Io a te ti prendo Cioè non sopravviverai questa giornata Te lo dico io Te lo dico io Questo qui sta pure al decimo posto No allora uno di questi qua Deve morire assolutamente Signori per favore No ma Gli volete fare il chiusone Rincoglioniti Guardatelo Aspettate Lui sta al secondo posto No lo devo ammazzare Lo devo È morto È morto È morto Vieni qua schifoso Dammi tutti i tuoi punti Eppure i punti dei tuoi vicini E tutto l'altro Questo qua Signor blu Celeste Non saprei Oh l'ho preso L'ho preso L'ho preso Benissimo benissimo No Tu no madonna Oh mio dio ragazzi Non mi piace Non mi piace essere così grande Perché tutti quanti In questo momento Sono dei nemici Tutti quanti Sono delle Dei possibili assassini Schifosi Maledetti 400 persone Tutte quante raggruppate In questo punto Ma che è sta cosa Vi giuro ragazzi Che se riesco a circondarli Faccio una strage Oh l'ho preso No 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 Cosa sta succedendo Stai fermo Oh mio dio No No Guarda che cosa succede qua Fuck Questo qua sta facendo qualcosa Che non mi piace assai Oh mio dio ragazzi Il lag Questo era il peggiore lag Che abbia mai avuto Ho rischiato malissimo No 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 Non laggare Non laggare Stai fermo Ma perché lagga così tanto Quando arrivo a tanti punti Cosa sta succedendo qui Ti prendo Mi ti inculo Tutto quanto A te blurido schifo No 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 Signor quebbel cop Che palle Oddio mio no 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 Non è vero Non è zero Un log No non è possibile Ok ragazzi Qua ci sta Un primo posto Abbordabile Vediamo se qua Ce la faccio Che poi è figo Che più ci allontaniamo E più le cose diventano Luminose Non si capisce niente No 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 Faccio schifo No ragazzi No ragazzi Qua bisogna Ecolversi Allora ragazzi Questa volta Sarà la volta buona Ok Signore Jelly 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 Oh Ho preso Ho ammazzato Ho ammazzato Ho ammazzato Ho ammazzato Un altro tizio Ho fatto una strada Benissimo Benissimo Non sto vedendo Una merita ceppa Non sto scherzando Perché è tipo Troppo luminoso Oh benissimo Signore come va Si è suicidato No ma che tristezza Ma neanche ha lottato Per la sopravvivenza Ma dai E che palle Cioè così non c'è gusto Però No no Stai calmo Sfermo là Bene No 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 Mi piace questo labirinto Qua Leviamoci dalle palle Ragazzi Questo qui però Qualcuno deve morire Qua Qualcuno deve morire Oh ne ho uccisi due Bene I miei punti bastardi Non avrete niente Che vuoi fare Sono miei punti ho detto E che palle E che cavolo E io qua ho lottato Per i miei punti Voi volete pregarmeli E no Ok ragazzi Quarto posto Quarto posto Mamma mia Dai che ci manca pochissimo Forza 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 Ragazzi le mie prossime vittime Eccole qua Le mie prossime vittime Maledizione sarete voi Ok No 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 Oh l'ho preso L'ho preso L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato L'ho ammazzato Credo che però più o meno sono arrivato al secondo o terzo posto. Che palle però, una volta che gioco bene, muoio per colpa del lag, ma vabbè, che cosa ci posso fare? Comunque vado ragazzi, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata su un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!